Interrogato per tre ore come persona informata dei fatti, il presidente della regione Nello Musumeci ha colloquio con i magistrati di Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei fondi dell'assessorato regionale al territorio, nato da uno stralcio del fascicolo sul cosiddetto sistema montante. In questa tranche sono indagati l'ex governatore Rosario Crocetta e due dei suoi assessori, Linda Vancheri e Mariella Lobello. Al procuratore Amedeo Bertone il presidente Musumeci avrebbe sostanzialmente confermato quanto già aveva dichiarato alla commissione regionale antimafia. Secondo quanto si è appreso Musumeci che si è presentato nel palazzo di giustizia di Caltanissetta da solo, sarebbe stato molto disponibile e collaborativo con la magistratura nistena. Intanto i verbali del pentito Salvatore Dario Di Francesco sono stati acquisiti agli atti del processo ordinario con 17 imputati sul sistema montante. Lo ha deciso il tribunale di Caltanissetta davanti al quale il collaboratore di giustizia avrebbe dovuto deporre dopo che la procura e le difese hanno rinunciato al suo esame. Di Francesco è anche parte offesa nel procedimento perché secondo l'accusa l'ex leader di Confindustria Sicilia lo avrebbe fatto seguire nei suoi spostamenti dalla sua rete di informatori dopo la notizia dell'avvio della sua collaborazione. Il processo è stato aggiornato al prossimo 3 giugno. Di Francesco ha ripercorso le origini degli apporti tra Antonio Montante e il boss mafioso di Serra di Falco, Arnone, che lo sostenne nella sua scalata nelle posizioni di Confindustria al punto che Montante, poi eletto, fece nominare Arnone tra i saggi dell'organizzazione imprenditoriale. E sugli avvenimenti mafiosi sui quali Montante si è cuscito addosso il vestito antimafia, Di Francesco è stato chiaro se li faceva da solo, anche perché, insiste il testimone, Montante era in piena sintonia con la famiglia mafiosa locale e il suo maggiore esponente.